Metallo bianco argenteo, tossico e radioattivo, argento vivo Dal greco uranos che vuol dire cielo, presente in organismi, acqua, rocce e suolo 235 e 238 cosa sono i suoi esotopi con cui devi scherzare poco Nei reattori e nella bomba trova un impiego e si identifica con la lettera U U-Rani 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 Puro e più tenero della CIA, io Ad alte temperature è lavorabile molto meglio 92 il suo numero atomico scoperto da Klebrut Tedesco che finora forse non conoscevi tu U-Rani 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 U-R Fisico francese che si mise meglio ad osservare il metallo bianco argente Tossico e radioattivo argento vivo Tutti sull'attenti perché hanno appena azionato Uranio 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 Uralì, Uralì, Uralì